25 novembre 2017, anche nell'anno del centenario, i Lions ci sono. Giornata mondiale della colletta alimentare, indetta dal Banco Alimentare. In Italia ci sono sempre più persone che hanno bisogno di sostentamenti. Il 25 novembre partecipa anche tu alla colletta alimentare. I Lions hanno bisogno anche del tuo contributo. Lions e Banco Alimentare, contro le nuove povertà. Prossimamente su One TV. A presto.